A primo piano l'attacco hacker globale che da giorni sta prendendo di mira aziende e infrastrutture di mezza Europa. Il malware ha colpito anche qui in Veneto alla maschio Gaspardo multinazionale che ha sede a Campodarsego nel Padovano. Da martedì sistemi operativi bloccati a 650 dipendenti tra tecnici e operai in cassa integrazione finché il problema non verrà risolto. I particolari nel nostro servizio di apertura con Stefano Edel. Un attacco hacker su vasta scala la cui sede di partenza sarebbe stata localizzata in Ucraina ha colpito gli stabilimenti del gruppo maschio Gaspardo in Veneto e Friuli. La conseguenza è stata la paralisi della produzione nelle fabbriche padovane di Campodarsego e Cadoneghe e in quella di Morsano al Tagliamento nel Pordenonese. I 650 operai che vi lavorano sono stati lasciati a casa sino a lunedì e collocati in cassa integrazione. I tecnici informatici del gruppo che produce macchine agricole sono impegnati a fronteggiare l'aggressione cybernetica. Il professor Mauro Conti, docente di sicurezza informatica all'Università di Padova. Beh diciamo questo è un attacco dall'esterno che comunque è riuscito ad arrivare all'interno e prendere il controllo delle macchine. Quindi l'attaccante in questo caso specifico ha chiesto un riscatto. L'aggressione cybernetica si è manifestata con l'oscuramento di tutti i computer all'interno degli stabilimenti e un messaggio in inglese a caratteri rossi che avvertiva della presenza del virus e sollecitava appunto il pagamento di un riscatto. La sicurezza è notoriamente qualcosa che non si apprezza finché c'è. Quello che bisognerebbe fare è cercare di prevenire. Quindi cercare di fare un cosiddetto assessment, capire a quali vulnerabilità, a quali potenziali attacchi siamo esposti e magari cercare di investire in tutti i fronti, non solo economico, di infrastruttura e anche di formazione per ridurre la superficie di attacco.